La politica deve diventare immediatamente orfano, nubile e figlio unico e quindi non esiste più la famiglia, il clan, la tribù eccetera. I giornalisti fanno bene a pubblicare le notizie che trovano, bisognerebbe anche provare a dire al telefono quello che si direbbe in pubblico. Non avere due parole, due linguaggi e due verità, molte cose che sarebbero restate ignote sono diventate pubbliche grazie all'intercettazione. Dopodiché naturalmente se i magistrati e quanti si occupano delle inchieste rispettassero di più il segreto istruttorio sarebbe meglio. Però la cosa non riguarda i giornalisti, riguarda chi ha in mano le inchieste. Io questo ho detto al primo giorno, quando Marco Lillo ha avuto in mano quella telefonata l'unica cosa che poteva fare era pubblicarla. Il problema è come l'ha avuta in mano perché naturalmente c'è una fuga di notizie su cui bisogna fare un ragionamento. Eh, tuttavia naturalmente quella telefonata anche lì è abbastanza inquietante perché Renzi... Ti ha detto di la verità, papà di la verità. Renzi fino a quel momento aveva detto che era tutta una bufa l'inchiesta concept, diciamo. Però al padre dice di la verità, non tirar dentro la mamma, se la poteva risparmiare quella telefonata e Lillo ha fatto bene a pubblicarla. Allora di Giorgi.